Un inno alla gioia del sacerdote, che è un bene prezioso non solo per lui, ma anche per tutto il popolo di Dio. L'ha cantato Papa Francesco nella sua omelia per la Messa Crismale del Giovedì Santo, concelebrata nella Basilica di San Pietro con i cardinali, vescovi e i sacerdoti presenti a Roma. Nel giorno in cui facciamo memoria dell'istituzione del sacerdozio e della nostra ordinazione sacerdotale, ha detto il Papa citando più volte l'esortazione Evangelii Gaudium, ricordiamo che la nostra gioia ha la sua fonte nell'amore del Padre e che siamo i più poveri degli uomini se Gesù non ci arricchisce con la sua povertà. La gioia sacerdotale, ha spiegato Papa Francesco, è una gioia che ci unge, non che ci rende untuosi o presuntuosi. È una gioia incorruttibile ed è una gioia missionaria che si radia tutti e attira tutti, cominciando alla rovescia, dai più lontani, ed è custodita dal nostro gregge. Anche nei momenti di tristezza, apatici e noiosi della vita sacerdotale, attraverso i quali anch'io sono passato, ha confidato il Papa, il popolo di Dio è capace di custodire la gioia, è capace di proteggerti, di aiutarti a ritrovare una gioia rinnovata. Prima di benedire gli oli degli infermi, dei catecumini e il crisma, Papa Francesco ha quindi ricordato che la gioia sacerdotale è custodita anche da sorella povertà, che chiede al presbitero di uscire da se stesso e dare al popolo ciò che gli è stato affidato, da sorella fedeltà, alla Chiesa viva, dalla sua parrocchia o della sua missione, e da sorella obbedienza, che è disponibilità a servire tutti. La disponibilità del sacerdote fa della Chiesa la cassa delle porte aperte, rifugio per i peccatori, focolare per quanti vivono per strada, cassa di cura per i malati, campeggio per i giovani, aula di catechesi per i piccoli di prima comunione. Dove il popolo di Dio ha un desiderio, una necessità, là c'è il sacerdote che sa ascoltare.